Ben trovato Fausto, con tuo comodo. Io intanto anticipo che siamo qui per parlare del libro di Fausto Manara, L'inconsapevole, che è il primo giallo scritto da Fausto Manara. E quindi capire un po' la genesi di questo libro credo sia interessante per tutti noi. Come mai si è approdato a un libro giallo? Ah, così subito. Vuoi che parliamo d'altro? No, 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 va bene, va bene. Bene, buongiorno, grazie di essere venuti a quest'ora non agevole. Dunque, io ho scritto un po' di roba fino a dieci anni fa. Da dieci anni a questa parte ho scritto una riga e avevo scritto dei saggi. E scrivere un saggio è indubbiamente molto più semplice che non scrivere un romanzo o comunque qualcosa di narrativa. A un certo punto, un po' per nostalgia dello scrivere, un po' per alcune situazioni che mi si erano presentate facendo il mio mestiere di psichiatra, mi si è composta poco a poco una prospettiva nella quale inserire una storia che contenesse alcune delle vicende di persone che avevo seguito o stavo seguendo e che, come dire, desse un corpo più compiuto a quello che in genere succede a chi fa la mia professione. Chi fa lo psichiatra, lo psicologo, lo psicoterapeuta, in fondo è un detective, è un investigatore. Perché quando una persona viene a consultarmi mi racconta i suoi sintomi, mi racconta le sue sofferenze e le possibilità sono due. O sbrigare per le brevi la questione, dandole dei farmaci, come molto è nella psichiatria di oggi purtroppo, oppure cominciare a chiedersi e a chiederci perché. Perché ti succede questo? Da dove viene la tua storia? Come è voluta la tua storia? Chi sono i colpevoli delle mancanze che durante la tua vita hanno fatto sì che oggi tu viva in modo così imperfetto, improprio, la tua esistenza? E quindi è un lavoro che, tutto sommato, è quello dell'investigatore. E allora questa occasione, questo rivoglio di scrivere, e questa occasione attraverso la storia in particolare di una delle protagoniste del libro, mi ha messo nella condizione di iniziare a uscire dalla saggistica e a cominciare a scrivere una storia. Una storia, per la verità, che ha avuto un processo molto articolato. Perché la storia, ho iniziato a scriverla come proprio la trasposizione di quello che vi dicevo poco fa, cioè la trasposizione, del cercare di mostrare come ci sono degli indicatori nel mio lavoro che, ben utilizzati, svelano il perché, svelano i colpevoli, svelano, rendono consapevole al lettore quello che è inconsapevole al protagonista del romanzo. E avevo scritto un testo di questo genere. Poi, per una questione di passaggi editoriali, il filo del discorso è voluto verso una dimensione più giallista, in cui più classicamente c'è una vittima e c'è un colpevole. Devo dire che l'architettura del formato giallo regge molto bene, certamente cambia il filo di narrazione, ma è molto avvincente e tutti i personaggi sono particolarmente ben disegnati, forse perché, come dici tu, prendono spunto da quella che è la tua longeva realtà quotidiana professionale. Lo psichiatra, protagonista del libro, quanto ti somiglia? Per quel che io ti conosco, ci sono dei tratti che si avvicinano ai tuoi? Beh, certamente questo Antonio Mazzini è anche, non dico un mio gemello, ma un mio parente stretto. Ecco, ci sono alcuni comportamenti di questo Mazzini che sono dei comportamenti fuori dalle righe, che è un po' praticato, altri no, un po' è stata data enfasi ad alcuni comportamenti che non fanno parte della mia consuetudine, però sicuramente le incertezze di quest'uomo, le difficoltà emotive anche di quest'uomo, la testardaggine di quest'uomo, che sicuramente è quello che mi somiglia di più, di questo psichiatra, sono, sì, sono parti della mia... E poi c'è nella storia di questo psichiatra il rapporto con questa anziana madre, che non è mia madre perché mia madre è morta perché avevo 35 anni, quindi non è lei, però insomma come tutte le madri sono madri che non permettono ai figli di vivere come tutte le madri, come molte madri, non posso certo generalizzare, ai figli di vivere compiutamente la loro esistenza in termini libri, insomma le madri un po' ansiosi, un po' captative, che vogliono mettere il becco nella costruzione della vita dei figli, insomma succede. E sì, anche in questo un po' di mio c'è, insomma, tutti abbiamo avuto una madre che bene o male qualche piccola seccatura ce l'ha dato. Qualche interferenza. Partiamo dall'inizio, abbiamo raccontato della genesi, della costruzione di questo libro, ma l'avvio della storia qual è? Qui dobbiamo stare attenti perché trattasi di libro giallo, per cui possiamo spingerci un pochino in là, ma non troppo. Non svellerò il colpevole. No, l'inizio della storia è il punto di partenza che ha stimolato la scrittura del libro. Cioè, il libro comincia con una seduta con una giovane donna, una ragazza, 17enne, che consulta questo Antonio Mazzini, psichiatra, per una serie di sintomi. In una città indecifrabile, non sveli mai di che città si tratta. No, anche se ci sono dei segnali che la città è la nostra. Ci sono dei segnali anche se non dico mai qual è la città. Inizia con una seduta con questa ragazza che aveva consultato per una serie di sintomi, attacchi di panico, difficoltà a uscire, autolesionismo, qualche periodo di bulimia. E consulta per questo e strada facendo, nella seduta precedente a quella che questo psichiatra si accinge ad affrontare, aveva dichiarato, finalmente, la tremenda esperienza che aveva vissuto, cioè un'esperienza di abuso sessuale. Inizia da questo e lì comincia a girare un po' la storia, perché questa ragazza ha una vita purtroppo non soddisfacente, visto che gli attacchi di panico non le permettono di uscire, ha un rapporto con i genitori che sicuramente ha delle lacune e questo rimane un pochino nell'aria, poi continuerà il discorso che mette in primo piano la questione dell'abuso con anche una descrizione che questa ragazza fa dei momenti in cui gli abusi si sono consumati e come. Lì comincia la storia e l'intreccio, perché la sera quando Antonio Mazzini torna a casa da questa giornata faticosa con questa rivelazione di questa donna, gli arriva una telefonata di un giornalista che con un sotterfugio lo stana e dicendogli so che questa ragazza, Paola, è stata una sua paziente e volevo dirle che si è buttata dall'ottavo piano dell'ospedale, si è suicidata. E dato che questo psichiatra aveva avuto in cura questa ragazza fino a due anni prima e se ne ricordava come di una donna, di una ragazza con una serie di problemi, anoressica, problematica, con un rapporto con la madre complicato, ma una ragazza tenace che da quanto ricordava mai si sarebbe tolta la vita comincia a dubitare che questo sia l'avvenimento così come è descritto. E da lì comincia a muoversi, a indagare. Comincia a indagare, perché tu prima hai detto tutti gli psichiatri probabilmente sono un po' detective. In realtà c'è un indagare dell'anima degli altri ma lui si muove anche da un punto di vista, come dire, pratico, tanto da andare un po' in parallelo e anche un po' contro un'altra figura del libro che è un poliziotto, un investigatore, un magistrato. Sì, anche perché l'unica indicazione che ha che gli permette di avere un collegamento con la realtà giudiziaria è che leggendo sul tablet le notizie dei giornali locali vede che il magistrato che ha preso in mano il fatto, quello che appunto viene rubricato come suicidio, è una persona che lui conosce, è una persona con cui ha avuto rapporti a cena, con degli amici e quindi l'accesso a quest'uomo è facile e si trova però incontrandolo in una condizione per cui la magistratura ha un'idea ben precisa di qualche successo, cioè suicidio e niente di più. Per questo lui comincia a muoversi oltre i confini della sua professione, comincia a uscire dallo studio, comincia ad andare a cercare prove, comincia ad andare a cercare elementi che possano mettere in discussione questa diagnosi, diagnosi dico da magistrato, questa conclusione decisamente sommaria e comincia ad entrare nelle pieghe e della vita di questa ragazza morta e dei collegamenti di questa ragazza con tante altre vicende che fanno parte anche del suo mondo professionale. Una psichiatra vede tanta gente, ha confessioni da tante persone e tante di queste confessioni possono portare ad allargare il campo rispetto anche ad altri personaggi che nessuno sa che seguono lo stesso percorso di cura ma che permettono di raccogliere una serie di indicazioni utili per sbrogliare la matassa. Qui c'è una... In questo libro ho voluto mettere in evidenza due questioni che sono due questioni che c'entrano con il libro ma c'entrano con lo specifico delle patologie. Cioè la struttura delle famiglie che è prevalente quando ci troviamo davanti a una ragazza anoressica che è la struttura classica che è un po' uno slogan ma è uno slogan che ha un fondo profondo di verità che è la presenza di una madre iperprotettiva di una madre ipergestrice della vita della figlia e di un padre assente che è un elemento che nel libro un po' enfatizzo ma poi neanche tanto perché situazioni come queste non sono, come quella che io racconto nel libro non sono assolutamente rare da una parte e dall'altra parte appunto c'è questa altra ragazza di cui parlavo all'inizio Carlotta, quella che ha subito l'abuso sessuale che a causa di questo abuso ha tutta una serie di problematiche che anche loro entreranno in qualche modo nella storia di questo suicidio omicidio non si capisce bene non si capisce bene nel rapporto tra magistrato e psichiatra chi dei due abbia ragione e quindi ho cercato anche di dare una lettura molto tra le righe molto a passant delle situazioni che queste ragazze queste persone vivono a causa di situazioni conflittuali familiari c'è il momento della fine del rapporto tra i genitori tra i genitori di Paola la ragazza che si suicida dall'ottavo piano che si suicida perché noi la raccontiamo dell'ospedale come vogliamo raccontarla adesso che viene rubricata come suicida ed è un episodio estremamente turbolento in cui la rabbia dell'uomo nei confronti della donna in cui la prevericazione maschile nei confronti del mondo femminile è tale che coinvolge la moglie madre di Paola questa ragazza e coinvolge anche la ragazza che deve assistere ed essere il protagonista allo stesso momento di una situazione nella quale lei non dovrebbe centrare niente ti dicevo proprio in apertura che ho trovato che i tuoi personaggi fossero molto ben disegnati perché anche quelli che forse in superficie potrebbero essere cattivi personaggi cattivi genitori in realtà tu li racconti in tutti quelli che sono risvolti non ti dico di giustificazione ma con una chiave di lettura umana che li legge a tutto tondo perché forse siamo tutti un po' così noi psichiatri siamo noi psicoterapeuti siamo portati a trovare ampie giustificazioni ai comportamenti perché il comportamento di di una madre iperprotettiva per esempio è un comportamento inconsapevole il titolo del libro perché questa donna ha avuto la sua storia questa donna ha avuto i suoi genitori questa donna è cresciuta con i suoi buchi con le mancanze ricevendo solo parzialmente quello che avrebbe dovuto avere e quindi avendo delle lacune affettive attraverso le quali è dovuta crescere tanto che ricordo che la mia collega bravissima collega Palazzoli Selvini ma era Palazzoli Selvini che era una terapista della famiglia fantastica che ha lavorato per lunghi anni a Milano negli ultimi anni della sua vita faceva sedute portando facendo venire in seduta i nonni i genitori i figli per laddove era possibile evidentemente per lavorare su questa trasmissione di negatività che alla fine è bene che si fermi e che venga trasformato in qualcosa che si blocchi l'effetto domino per così dire in qualcosa di positivo sia un effetto di trasmissione di elementi negativi che poi per cui la giustificazione dei genitori viene proprio da questo hanno una giustificazione legata al fatto che anche loro hanno avuto le loro storie i loro problemi e quindi trasferiscono quello che hanno e questo rende inconsapevoli i comportamenti ma questo capita a tutti noi che ci comportiamo in un certo modo in tante situazioni e non ci rendiamo conto perché abbiamo dato fuori di matto in un certo momento per una cosa banale perché abbiamo sofferto tanto per una cosa che tutto sommato non dovrebbe perché perché ci rimette in moto qualcosa di qualcosa di di nostro qualcosa che riguarda la nostra storia qualcosa che ci fa rievocare emotivamente esperienze brutte negative che abbiamo vissuto che ci portano ad avere una reazione una reazione esagerata appunto inconsapevole rispetto a quello che succede volevo fare focus sul tema della sincerità adesso ti ti dico perché mi viene in mente questo prima quando parlavi mi è venuto in mente di quanto importante sia trasferire in un colloquio con un professionista come te in modo sincero quanto più possibile per come lo intendiamo noi il nostro mondo la nostra vita eccetera e mi viene in mente il filotto nonni genitori eccetera lì in quel contesto si riesce a essere sinceri quando si è tutti insieme raccontare davvero quello che ci ha ferito quello che ha innescato dei meccanismi quelli che poi riverberiamo sui nostri figli tu li sgami quelli che non sono sinceri quando vengono in seduta no non non è possibile o meglio si è sinceri in rapporto a quello che si ritiene sia stato giusto nel nostro comportamento a volte si riconosce si riconoscono anche degli errori fatti però tutto sommato ci si giustifica sempre un po' e tante volte capita che i figli giustifichino i genitori ci sono dei rapporti talmente di dipendenza e anche di generica riconoscenza nei confronti dei genitori che spesso figli che hanno avuto genitori sono un po' discutibili li difendono a spada tratta dicendo papà e la mamma sono stati bravissimi lasciamo listare hanno fatto quel campo tutto quindi la sincerità anche se la regola è quella mi dica quello che le viene in mente senza filtrarlo che le sembri intelligente o stupido che le sembri importante o meno e questa è la regola del nostro rapporto è una regola che lascia un pochino il tempo che trova perché poi i filtri siamo abituati tutti a usarli quindi anche lì finiamo per farlo e i filtri ci sono anche nelle storie di questi personaggi che io racconto sono filtri che dipendono da l'inconsapevolezza e a volte dipendono anche dalla reticenza che porta a come dire a mascherare situazioni che invece sono importanti nell'economia poi dello svelamento del del mistero questo penso che si possa dire in questo libro seppure nelle problematiche mi sembra che escano meglio le figure giovani di quelle adulte o sbaglio beh non è tanto una è morta l'altra è stata abusata intendevo dire che mi sembrano più veri e più onesti loro un altro ragazzo è impastogliato con i suoi problemi no non stanno benissimo no non stanno benissimo perché le figure adulte le figure adulte girano male insomma questi ragazzi hanno avuto hanno avuto dei danni però mi sembrano più puri non so come dirti sì non riesco a convincerlo beh sì più puri se consideriamo chi esprime sintomi più puro di chi inconsapevolmente non li esprime sì grazie mi sento già appagata però è un punto di vista che non condivido tanto hai ragione venendo al fatto che appunto hai messo più di una figura giovane all'interno di questo libro è un tema che tu conosci molto bene per esempio quello dell'anoressia o piuttosto che della bulimia vorrei capire da te mi discosto un attimo dalla presentazione del libro come sono andate le cose negli ultimi anni perché parlando con dirigenti scolastici professori eccetera eccetera la situazione si è complicata non poco per chi vive un disagio che porta all'isolamento questo è un dato di fatto insomma ma non soltanto questi disturbi molti disturbi emotivi psicologici psichiatrici sono peggiorati perché l'isolamento la solitudine certamente rende tutto più più enfatizzato insomma quando come quando arriva sera e si cominciano a fare dei pensieri spegnendo la luce hanno un'enfasi molto maggiore io in questo libro non ho voluto tanto mettere l'accento sulle questioni dell'anoressia dell'abuso eccetera cioè sono sono delle situazioni funzionali all'andamento di una storia che è la storia appunto di un un avvenimento drammatico che tutti tutti i giudicanti vorrebbero sbrigare per le vie brevi come suicidio invece sotto c'è veramente di tutto c'è di tutto il la follia c'è la lo scivolare da parte di uno dei protagonisti verso il delirio ci fa vedere come il delirio possa insegnare delle cose c'era c'era Zapparoli a Bergamo che in questo era uno psichiatra straordinario era uno psicoterapeuta delle psicosi e lavorava molto proprio su questo nel libro c'è una parte in cui questo succede laddove il delirio di uno dei protagonisti è la chiave è una delle chiavi di lettura del significato di tutto quello che succede quindi dalle torture della mente una volta che sei in grado di leggere partendo dal chiederti perché succedono certe cose puoi trovare il bandolo della matassa per avere un'indicazione in più rispetto a quello che cerchi quando hai pensato alla storia che in un secondo momento è diventato un libro giallo l'avevi da subito in mente nitidamente al di là appunto del cambio di passo della narrazione per renderla gialla sì anche perché il portato centrale di questo libro è proprio il diciamo il giallo psicologico il non è soltanto l'investigazione l'investigazione poliziesca o la curiosità o è proprio il seguire il filo psicologico degli eventi per venire a capo di un di un mistero che a un certo punto vuole essere liquidato che invece rimane un mistero e che avrà e che avrà un finale che che non si dice che chiarina che non si dice e che chiarisce qual è qual è il mistero è un finale molto ben disegnato ma è anche un finale che ci fa capire che questo psichiatra potrebbe restare nelle nostre vite come compagno di viaggio in futuro sì è un è un finale che in cui in cui si si svelano tante cose e dal quale nel quale lo psichiatra alla fine nonostante tutto se risolve se risolve il giallo se risolve l'enigma non risolve per se stesso il problema è un finale che toglie i problemi a diciamo all'individuazione del del responsabile o dei responsabili ma non permette allo psichiatra di respirare finalmente tranquillo perché il tutto è finito molto ben spiegato camminando un po' sulle uova però molto ben spiegato non non hai fatto diventare lo psichiatra il supereroe perfetto non è perfetto ha una serie di imperfezioni molto umane ci mancherebbe altro è un bravissimo giocatore di biliardo gli piace il gioco d'azzardo insomma gli piace il brivido lo psichiatra può mica stare sempre seduto a ascoltare le sfighe del mondo e non e non avere un attimo di di svago e di di autogenerarsi un po' di sfighe anche da solo insomma ecco di autogenerarsi anche un po' di sfighe per se stesso per dire esattamente esattamente no no lo psichiatra è ma lo psichiatra è un uomo non è che lo psichiatra sia un totem un essere che per lo psichiatra è perfetto ha i suoi punti deboli per noi umani l'idea che qualcuno riesca a sondare la mente degli altri automaticamente un po' risolve anche la mente del professionista stesso beh dovrebbe essere il contrario che auspicabilmente dovrebbe essere il contrario che costui ha risolto i suoi nodi e così può aiutare gli altri non è che uno ha i propri vedi problemi dagli altri e così risolve i propri nodi cosa che succede spesso perché ci sono persone molto disturbate che vanno a fare psicologia non sono poche ecco sperando che questo le aiuti a risolvere i loro problemi no io sono del parere che tanto più ci sono state delle imperfezioni che sono state capite diventate consapevoli l'inconsapevolezza è diventata consapevole tanto più si possono aiutare gli altri per questioni che bene o male somigliano perché in fondo la storia di tutti noi io avevo scritto un libro un saggio che si chiamava timidezza che iniziava con una frase la timidezza è un sentimento universale perché tutti siamo cresciuti con siamo cresciuti con attorno delle imperfezioni da parte di chi avrebbe dovuto crescerci con amorevolezza carezze presenza passione supporto e così via non abbiamo avuto tutto spesso siamo cresciuti con la preoccupazione che quello che non abbiamo avuto dipendesse dal nostro disvalore questo poi ce lo portiamo ce lo portiamo dietro quindi bene o male questa è una dinamica comune insomma per tutti e tanto più riesci a entrare in questa logica tanto più riesci anche a entrare in un'empatia con le problematiche di chi di chi si rivolge a te e quindi aiutarlo meglio capendo anche alcune cose vissute sulla tua pelle che stai vivendo questo paolo disgraziato che ha bisogno di venire a pagarti per avere un un conforto in più nella sua vita mi piacerebbe anche che tu psicanalizzasti lo psicanalista e il suo rapporto con le donne perché come dire punteggia tutto il libro il suo rapporto con le donne c'entra il rapporto conflittuale con la madre nel suo rapporto con le donne o l'ha risolto è tutta un'altra pagina no no c'entra il rapporto conflittuale con la madre l'invadenza di questa madre questo psichiatra aveva avuto un matrimonio che si è interrotto e dopo questa esperienza è un personaggio che nel rapporto con le donne esita molto ma esita molto dal punto di vista del coinvolgimento emotivo affettivo più che dal rapporto dal rapporto in sé e poi piano piano insomma anche lui anche lo psichiatra evolve ma questo lo scoprirete leggendo il libro esatto vogliamo chiedere a chi è qui se ha voglia di farti delle domande non come va a finire questa è l'unica cosa preclusa diciamo così c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa Fausto mi pareva aver visto una mano alzata o era un no andiamo avanti a chiacchierare io e te non hanno domande si vede che sei stato bravissimo a spiegare tutto la domanda l'unica domanda è come va a finire di un giallo non è che ci siano tante altre domande beh io non sono d'accordo nel senso che quando si parla con il protagonista di un libro così come di chi ha fatto un disco l'ascolto o la lettura consapevole che passa attraverso quello che c'è stato dietro secondo me migliora di molto la lettura sì sì può essere può essere vuoi mettermi a disagio? no 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 condivido anzi rinforzo molto bene questo mi fa molto piacere allora io direi che possiamo salutarci se non hai niente da aggiungere per chiudere no buona lettura spero che vi piaccia anzi dato che mi pare che sul libro ci sia il libro che costa pochissimo tra l'altro 10,90 proprio sono questi 90 che ti danno fastidio quindi 90 non so perché li ha messi per infastidire il venditore no perché le ultime tre volte che ci siano sentiti me le hai sempre sottolineato mi pare che ci sia il mi pare di sì da qualche parte sì eccolo qua c'è il www del mio del mio sito se chi lo legge vorrà darmi un feedback gli sarò grato perché nel bene e nel male mi servirà anche per il sequel di questo libro a cui sto ho iniziato a lavorare e che tutto sommato ho messo già un po' a fuoco quindi la scrittura ti ha portato via l'attenzione dalle altre forme d'arte con cui ti esprimi sì che non abbiamo parlato di questo sì 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 assolutamente assolutamente anche perché è un periodo in cui la parte creativa come dire visiva è stata lasciata un po' da parte e quindi avanti con la scrittura quindi andrò avanti con la scrittura ricordatevi quindi l'inconsapevole il nuovo e primo libro giallo primo ma non ultimo ma intanto ci concentriamo su questo di Fausto Manara se fate presto perché le copie non sono tante le copie a disposizione non sono tante trovate nel tendone dei librai appunto in Audi che appunto ha avuto perché il libro è uscito ieri quindi è stata un po' una corsa anche ad averne un po' di copie per per mettere a disposizione oggi quindi insomma non perdete non perdete tempo e affrettatevi con i 90 centesimi esatto vedete di avere l'euro dei 10 più 90 grazie mille a Fausto Manara il primo è il mio è il mio eccoci il primo è il mio è il mio ma infatti adesso lo spostiamo ma il mio così almeno io poi non distruggo ulteriormente l'avvocato l'avvocato firmano sul palco poi sposto mi piace l'avvocato 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 è il mio Grazie.